Signor Gruber? Oh, questo cos'è? Ah, quella è Londra! Magnifico! Zia Lucy ha sempre sognato di venire a Londra. Se vedesse questo, sarebbe come se fosse finalmente qui. Zia Lucy! Oh, Paddington. Questo è perfetto. Ho avuto un'idea splendida a trovarmi un lavoro per comprare quel libro per il compleanno di Zia Lucy. Buongiorno, lavavetri! Sicuro di essere pronto per il mondo del lavoro, Paddington? È Phoenix Buchanan, il cliente celebre di papà. Immagino tu sappia chi sono. Oh sì, lei è un attore molto famoso. Bip, celebrità. Oh, lo era una volta. Ora pubblicizza cibo per cani. Questo libro, dove diamine l'hai trovato? Al negozio di antichità del signor Gruber. Fermati, ladro! Resta fermo dove sei! Ma non sono io il ladro. Cose misteriose accadono in tutta la città. Siamo di nuovo ricchi. Sembrerò un criminale incallito, ma sono innocente. Ci serve un piano a prova di idiota. Per riconoscere un criminale serviamo noi. È un trasformista. Questo è furto con scasso. Non abbiamo scassato niente. Dove credi di andare, orso? Paddington non esiterebbe ad aiutare chiunque. Lui cerca il buono in tutti noi. Marmellata. Accomodatevi. Forza, Lupetto! Hai.